L'azionario asiatico chiude in generale ribasso per la seconda sessione consecutiva appesantito dagli indici giapponesi, mentre lo yen si deprezza nel rapporto con il dollaro e le materie prime, particolarmente i metalli, perdono di valore. Tutto questo accade in seguito alle dimissioni del primo ministro del Giappone, Yukio Atoyama, annunciate oggi a meno di due mesi dalle elezioni. In collegamento internet da Tokyo, Alessandro Libri. Ciao Alessandro. Sì, buona giornata Luciano. Dici bene, è durata neanche dieci mesi la luna di miele tra gli elettori giapponesi e il Partito Democratico guidato da Yukio Atoyama. Il primo ministro ha annunciato le dimissioni mercoledì mattina a Tokyo nel corso di una riunione di emergenza con i dirigenti del partito, mentre il livello di popolarità nei sondaggi andava sottiliandosi sotto il livello di guardia e diventava sempre più esiguo il consenso all'interno dell'esecutivo a meno di due mesi dalle elezioni per il rinnovo del Senato. Atoyama è stato travolto dal malcontento generale dopo la decisione annunciata la scorsa settimana di non essere in grado di trasferire la base militare di Futenma nell'isola di Okinawa, una promessa che costituiva uno dei carni della campagna elettorale che aveva consentito al Partito Democratico di vincere le elezioni lo scorso settembre, ponendo fine al 50 anni di governi guidati dal Partito Liberal Democratico. Il dietro fronte di Atoyama aveva provocato l'abbandono del Partito Social Democratico nei giorni scorsi all'interno della coalizione di governo, una evoluzione che anticipava un calo dei consensi nelle elezioni di medio termine il prossimo mese e con i sondaggi che mostravano un calo di popolarità del primo ministro dal 70 al 20% in solo 8 mesi al governo. L'impossibilità di ricollocare la base militare nell'isola a sud del Pacifico rappresenta essenzialmente un errore di valutazione. Futenma ospita quasi la metà dei 47 mila marines di stanza in Giappone e la sua importanza è cresciuta nel corso degli ultimi anni a causa dell'instabilità dell'aria e sacerbata dalle ultime vicende che riguardano la Corea del Nord e la crescita dell'influenza politica della Cina all'interno del continente. La maggioranza della popolazione locale in Okinawa è contraria alla presenza della base per via delle condizioni che un dispiegamento militare di queste proporzioni comporta, dall'impatto ambientale all'inquinamento acustico fino alla perdita di identità della stessa isola. A Toyama, il quarto primo ministro in quattro anni era segnale le dimissioni, in Giappone tra i possibili successori ci sono l'attuale ministro delle finanze Naoto Kan e il ministro degli esteri Katsuya Okada. Ogni decisione è rimandata al prossimo venerdì quando si riuniranno i vertici del partito. Luciano? Dunque periodo di incertezza, i mercati azionari non l'apprezzano, non l'apprezzano neanche il valutario, l'azionario cala e anche l'Oien nel rapporto con il dollaro. Sì esattamente, la reazione a quanto accaduto in Giappone non si è fatta attendere sui mercati finanziari, in particolare sull'Oien per via del periodo di instabilità che si verrà a creare. Valuta giapponese che era stata già venduta inizio settimana al cambio col dollaro, il rischio secondo gli investitori è che da qui a luglio ci sarà poco spazio per l'esecutivo per creare un sostegno sufficiente ad impedire un calo dei consensi alle elezioni parziali del Senato. La borsa di Tokyo è terminata col segno meno, male il comparto della tecnologia e quello energetico, chiunque diventerà il primo ministro dovrà fare i conti con un'economia che rimane estremamente dipendente dalle esportazioni e con la variabile deflazione ancora presente. Sul resto dei mercati azionari asiatici termina in calo Hong Kong per via delle vendite sulle materie prime. L'unica borsa in controtendenza quest'oggi è Shanghai, malgrado i segnali poco incoraggianti dal settore manifatturiero pubblicati ieri, spinge invece il settore legato ai consumi interni che a differenza del Giappone è ancora in crescita. Luciano. Bene, grazie Alessandro, dunque ancora buona serata e a domani. Ciao.